Quest'anno, dopo due anni di inattività a causa di tutto quello che sappiamo, siamo riusciti a realizzare questa 25esima edizione della Festa Nazionale del Maestro, un progetto e un contenitore strepitoso, culturalmente, di musica, veramente pieno. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo i maestri di vita, premiamo maestri di vita che sono distinti per situazioni che hanno aiutato la comunità, abbiamo un concorso, una città per cantare, quindi i testi degli alunni delle scuole di tutta Italia vengono selezionati e si trasformano in canzoni grazie all'accordo con una casa discografica. Poi abbiamo un direttore artistico, Gabriele Foschi, che cura il coro ai cappuccini e tutto questo si sfocia alla Festa Nazionale del Maestro che si sarà venerdì 1 luglio alle 21.15 al Teatro della Fortuna di Fano. Abbiamo quindi questi maestri di vita, tra cui maestro d'onore, la senatrice Segre, perché abbiamo fatto proprio un tema dedicato all'argomento molto delicato legato alla Shoah e alla persecuzione degli ebrei danianzisti. Un ragazzo, una ragazza col suo tema ha colpito nel segno e l'abbiamo trasformato in canzone, quindi canteremo il coro diretto da Gabriele Foschi, canterà le canzoni dei temi del concorso. Dopo un anno di lavoro, lavoro che è anche fatto di composizione di canzoni, di preparazione musicale da parte di tantissimi bambini coinvolgendo le scuole primarie e secondarie, una manifestazione musicale dove la musica è protagonista perché c'è tanto lavoro e tanta fatica anche nell'apprenderla e nel comporre, soprattutto nel fare composizioni che anche tematicamente siano in linea con i temi del nostro tempo, dalla pace all'ambiente e un'occasione anche per premiare dei maestri, dei maestri di vita, che è un po' la formula della festa del maestro per l'appunto ideata dal Grillo d'Oro e anche un'occasione benefica perché con i proventi, nella manifestazione che quest'anno si terrà, ringraziamo per l'ospitalità e il Teatro della Fortuna di Fano, darà la possibilità di finanziare l'attività della scuola Magnificat di Gerusalemme fondata da padre Armando Pierucci, che anche quello è un presidio di cultura e di pace e di incontri interreligiosi e interculturali fondamentale e soprattutto è un bellissimo raccordo con Pesaro, città della musica Unesco.